Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi parleremo della tubercolosi e di questa malattia in varie fasi della sua storia. Georges Sand, l'amante di Chopin, disse una volta di lui che Chopin tossiva con grazia infinita. L'immagine del pianista romantico, tisico, pallido e affilato che suona come un angelo è una delle immagini più rappresentative della tubercolosi come malattia ufficiale del romanticismo e quindi esploreremo questo aspetto. Inoltre parleremo della tubercolosi nel medioevo e di una forma particolare di tubercolosi, la tubercolosi linfoghiandolare o adenite tubercolare che al tempo era detta scrofola ed era una malattia che poteva essere guarita dal tocco dei re che avevano la peculiarità di avere questo potere quasi magico di guarire questa malattia in particolare. L'inizio della fine per la tubercolosi come malattia letteraria e romantica e magica fu la scoperta nel 1882 da parte di Robert Koch del micobatterio della tubercolosi detto appunto bacillo di Koch che segnò l'inizio della tubercolosi come malattia trattata in modo scientifico e portò fino ai giorni nostri dove esistono testi agnostici affidabili e cure efficaci. Ma iniziamo con la storia della tubercolosi. Va precisato semplificando molto che la tubercolosi può colpire ogni parte del corpo. La forma più comune e conosciuta è quella polmonare. La malattia può manifestarsi con tosse ed emottisi cioè l'emissione di sangue con la tosse e si accompagna ad una manifestazione a specifica con pallore, perdita di peso, febbre e sudorazione notturna. Da qui l'immagine letteraria del tisico esangue dal viso affilato e dagli occhi lucidi e febbricitanti. Nel tempo le varie culture del mondo assegnarono alla malattia nomi diversi. Yokshma in India, in Europa tisi, consunzione e ancora mal sottile e Chachi Onkai per l'Inca, ognuno dei quali riporta l'effetto del seccare e consumare della malattia, in termine medico cacchessia cioè stato di grave deperimento organico. Facciamo ora un passo indietro fino al medioevo e parliamo dei re taumaturgi o re guaritori. Nel medioevo era molto diffusa una forma linfoghiandolare della tubercolosi, detta scrofola o scrofolosi. Con la diffusione della cristianità i monarchi erano visti come una figura religiosa con poteri magici e curativi. Si credeva che il tocco reale, il tocco del sovrano d'Inghilterra o di Francia, avesse poteri curativi. Questo potere curativo era però estremamente specifico e poteva curare una sola malattia, in particolare la scrofola o adenite tubercolare. Questa pratica era così comune che la scrofola era conosciuta anche come il maldua o male del re. Inizialmente la cerimonia del tocco era un processo informale. Gli individui malati potevano chiedere alla corte il tocco reale e il tocco veniva eseguito non appena era possibile per il re. A volte il re di Francia poteva toccare i malati durante la sua passeggiata reale. Il rapido diffondersi della tubercolosi in Francia e in Inghilterra comunque fece sì che il processo del tocco divenisse più formale ed efficiente. I manifesti indicanti i giorni e i tempi il cui il sovrano era disponibile per il tocco reale venivano esposti regolarmente e come supporto caritatevole veniva addirittura distribuito denaro. Anche se la cerimonia non aveva valore medico, i membri della corte spesso propagandavano che coloro che ricevevano il tocco reale guarissero miracolosamente. Anche l'anziano medico di Enrico IV pubblicizzò i risultati dicendo che almeno la metà di coloro che ricevevano il tocco reale guarivano in pochi giorni. Il tocco reale rimase popolare fino al diciottesimo secolo. Torniamo adesso al diciannovesimo secolo e alla forma più conosciuta di tubercolosi secondaria, la tubercolosi polmonare. Durante il 1800 la tubercolosi fu soprannominata la piaga bianca, il male di vivere, il male del secolo. Era vista come una malattia romantica, si pensava che soffrire di tubercolosi concedesse al malato una sensibilità nascosta. La lenta progressione della malattia permetteva una buona morte, consentendo alle vittime di mettere ordine nei loro affari. La malattia cominciò a rappresentare la purezza spirituale, portando molte giovani donne del ceto alto a impallidire volutamente il loro viso per avere un aspetto malato. La tubercolosi divenne popolare come la malattia degli artisti e dei poeti. Il poeta britannico Lord Byron scrisse nel 1828 mi piacerebbe morire di tubercolosi. George Sand amava ciecamente la tisicità del suo amante e lo chiamava il mio povero melancolico angelo. Innumerevoli sono le opere letterarie e liriche i cui protagonisti sono tisici e questa loro malattia è parte imprescindibile della storia e del personaggio. Vediamo alcuni esempi. La signora delle camelie di Dumas figlio, su cui si basa anche la traviata, racconta la storia di Margherita, una mantenuta parigina che frequentava gli Champs-Élysées e le rappresentazioni teatrali portandosi sempre dietro tre oggetti, l'occhialino, un sacchetto di dolci e un mazzo di camelie e del suo amante Armando. Durante una cena Margherita si sente male e sputa sangue. Mimi, la protagonista femminile dell'opera lirica La Bohème, è una ricamatrice di fiori che vive in una fredda soffitta buia di Parigi. La sua gelida manina e il mancamento che manifesta già nel primo quadro dell'opera sono i primi segni della tisi che la porterà alla morte. Ricordiamo la Silvia di Leopardi, uccisa dal chiuso morbo, i poeti crepuscolari che si ispirarono spesso al mal sottile anche per motivi autobiografici. Di tubercolosi muore infatti nel 1907 a neppure 21 anni Sergio Corazzini, è malato di tubercolosi e anche il caposcuola dei crepuscolari Guido Gozzano. Muoiono di tisi nella letteratura francese la cugina Beth di Balzac, si consumano di mal sottile vari personaggi di Montpassant e Zola, come Gervaise, affetta da una costante e sospetta tossettina. Anche nella letteratura americana non mancano esempi, tutti conoscono piccole donne dove la sorella Beth, timida, dolce e sensibile amante della musica, muore di tisi a 19 anni. Ma non sono solo i personaggi della finzione a soccombere alla malattia. Molti artisti noti e altre personalità della vita reale, data la diffusione della malattia e la scarsità di cure efficaci, si ammalano e periscono. Muore di tisi ovviamente John Keats, poeta simbolo del romanticismo inglese, nel 1821 a soli 25 anni, a Roma nel suo alloggio in piazza di Spagna. Per la stessa malattia si spensero tutte e tre le sorelle Bronti. Si consuma a 39 anni il già citato Chopin, il poeta del pianoforte. Muore di tisi Schiller, poeta e drammaturgo tedesco, e prima di lui Novalis, melanconico pioniere del romanticismo tedesco. Braille, l'inventore del sistema di lettura per i non vedenti, e Pascal, il grande matematico. Di tisi muoiono anche Kafka, il grande angosciato romanziere dell'inizio del novecento, e il grande scrittore russo ceco. I sanatori. Il progresso scientifico sulla tubercolosi e la sua natura contagiosa creò la necessità di istituzioni per ospitare i malati. Queste strutture vennero chiamate sanatori. Il primo progetto per una struttura che ospitasse gli ammalati di tubercolosi fu disegnato nel 1840 da George Boddington, che propose un programma di dieta abbondante, riposo e cure mediche. Hermann Bremer, un medico tedesco, era convinto che la tubercolosi nascesse dalla difficoltà del cuore di irrorare correttamente i polmoni. Per questo propose che le regioni sopra il livello del mare, dove la pressione atmosferica è minore, potessero aiutare la funzione del cuore. Per questo molti sanatori furono costruiti in zone montane. Oltre alle favorevoli condizioni climatiche erano in uso terapie blande, come quella del consumo di acque minerali, ginnastica, clisteri e bagni di sole. L'elioterapia era uno dei trattamenti offerti dai sanatori. Nella tubercolosi laringea si praticava mediante apparecchi a specchi che riflettevano i raggi solari sulla mucosa laringea, provocando però più che altro ustioni e pochi benefici. Anche i sanatori non mancano nella letteratura. Nel sanatorio di Davos, la clinica Berghof, Mann ambienta la montagna incantata, dove il sanatorio diventa un microcosmo dove i personaggi vivono per ben sette anni. La scoperta nel 1882 del bacillo di Koch, micobatterio responsabile dell'infezione, segnò l'inizio della fine per la tubercolosi come malattia romantica e letteraria. Da qui la scienza e la medicina moderna iniziarono a impossessarsi della malattia, che diventò un'entità scientifica. La scoperta diede inizio a ricerche che portavano finalmente a test diagnostici affidabili e cure efficaci. Spero che il video vi sia piaciuto e come sempre se avete dei consigli o altri argomenti di cui vi piacerebbe parlare fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al mio canale.